Un saluto dal Tg della mobilità a luglio sarà indetto il bando per nuove licenze taxi e autorizzazioni per conducenti NCC a Roma, previste mille nuove licenze taxi e duemila autorizzazioni NCC con l'obiettivo di consegnarle ad ottobre. Lo ha annunciato l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè nel corso dell'audizione alla Commissione Trasparenza. Entro maggio si conta di chiudere l'elaborazione delle linee guida di concorso. Una parte del mese di giugno verrà dedicata al confronto con le organizzazioni sindacali e a luglio si prevede l'indicazione dei bandi. L'agenzia è incaricata a svolgere i concorsi sia per i taxi che per i noleggi con conducente. Per la fine di settembre si spera di poter avere i nominativi dei vincitori e di svolgere nei mesi successivi le pratiche per il rilascio delle licenze. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.